Mi chiamo Teresa e vengo da Napoli. In questo breve video vorrei raccontarvi un po' della mia magnifica esperienza con il dottor Raffaele Rauso e tutta la sua equippa Chirurgia della Bellezza. Tutto è iniziato quando a seguito delle due gravidanze e due allattamenti durati un bel po' di tempo, il mio cielo e il mio addome erano diventati praticamente inguardabili. Non riuscivo a guardarmi più allo specchio e stavo vivendo veramente molto male questa situazione. Decisi allora di andare in internet e mettermi alla ricerca di qualche buon chirurgo, ma alla fine ricadevo sempre sul dottore. Decisi quindi di prendere un appuntamento e da questo appuntamento io non sono andata alla ricerca di altri medici, né per confrontarmi né per altro, perché comunque nel dottore avevo trovato tutto ciò che serviva a me. Al di là della serietà, della professionalità, della gentilezza, io ho proprio trovato in tutta l'equipo una famiglia che è importantissima, perché comunque mi sono stati veramente d'aiuto, hanno risposto veramente a qualsiasi mia paura, mi hanno dato tanta sicurezza. Sarò un caso isolato, non lo so, però comunque io non ho avuto tanti problemi legati al dopo intervento, non ho avuto molti dolori. So che il dottore usa delle tecniche molto innovative, che comunque funzionano alla grande, perché comunque sono stata bene, si può dire, sin da subito. Ad oggi sono ancora seguita e sono passati quasi sei mesi dagli interventi di mastopessi e addominoplastica. Sono seguita sia tramite messaggi, quando non ci vediamo per un bel po' di tempo, e magari quando poi ci vediamo da vicino per gli appuntamenti, insomma, quelli che si fanno di routine, di controllo. Colgo l'occasione con questo video per ringraziare veramente tutti, in particolare il dottore. Io non ho parole per ringraziarlo e consigliarlo veramente a tutti. Ringrazio tutta l'equip, dalla segretaria, agli infermieri, all'anestesista, e in particolare a Salvatore, che è un infermiere eccezionale, che è veramente una persona squisita. Grazie.